Musica Come qualsiasi altro ragazzo al mondo noi ci sviamo mattina però invece di andare a scuola andiamo a vedere le onde Musica Oggi siamo in Asia ma domani potremo stare in un'altra parte del mondo Siamo molto fortunati di avere la nostra passione e di viaggiare il mondo Questo non è normale, come un sogno, il mio nome è Kana Egarashi Io sono Leonardo Iforavanti e siamo surfisti professionisti Grazie Grazie Grazie